ragazzi buongiorno faccio questo video non perché voglio visibilità o altre cose perché chi mi conosce sa come la penso ma faccio questo video perché voglio rispondere al signor francesco millesi riguardando le dichiarazioni di plescia chiamandolo non professionista che se fosse per lui non gli avrebbe neanche dato la maglia dell'avellino e l'unica cosa buona chiede il numero allora signor francesco millesi da cosa vogliamo iniziare iniziamo che una sera in un noto ristorante dove lei andava sempre pranzo e cena a mangiare in una cena di queste davanti a due tre persone lei avrebbe detto gliela faccio pagare solo perché l'ex società dell'avellino non gli voleva rinnovare il contratto vogliamo parlare del suo caro amico luca pini il quale venne a tripalda dove lei alloggiava insieme ad un'altra persona con audi a1 nera questo luca pini venne al bar che io avevo guarda mi ricordo ancora cosa si prese un pacco di biscotti e un succo di frutta parlando a c'era anche un bel tatuaggio ai lobo football il braccio penso sinistro non lo so mi pare più il destro comunque ai lobo football dice io lo guarda insomma tu sei un calciatore si si sono amico di ciccio cosa fece il signor luca pini salì da lei non aveva niente solo un telefono e dopo 5 10 minuti uscì con una borsa che andò in macchina e la mise dietro al cofano lei poi chiamò a due calciatori era la settimana che poi doveva mandare a modena e uno di questi due calciatori non giocò l'altra persona invece l'altro calciatore che lei ha chiamato è salito sopra ma dopo neanche due minuti scese a velocità sbattendo la porta e andando verso l'hotel con il telefono in mano chiamò non so chi e guarda caso lei signor francesco millesi scappò di notte andando a rifugiarsi a catania il lunedì martedì lei fece una dichiarazione dicendo che lei se ne è andato via da avellino perché sua moglie non stava bene quando poi le situazioni sono altre quindi signor francesco millesi prima di giudicare un calciatore si faccia un esame di coscienza lei perché lei è l'ultima persona al mondo che può chiamare un'altra persona non professionista quindi lei ultimamente fa l'allenatore fa i video su tik tok quindi si basa su quello è un'altra cosa signor francesco millesi lei avellino avellino non la deve neanche nominare per quello che ha fatto buona giornata signor francesco millesi